Saranno più di 400 gli scienziati e ricercatori che prenderanno parte alla diciannovesima edizione del congresso mondiale di psicofisiologia in svolgimento al campus IMT fino all'8 settembre sotto la presidenza del professore Emiliano Ricciardi associato di psicobiologia e psicologia fisiologica della scuola. Il convegno che a cadenza biennale torna in Italia per la terza volta. Che il congresso sia oggi qui di nuovo in Italia in particolare alla scuola IMT a Lucca sotto la presidenza di Emiliano Ricciardi che è mio giovane allievo ci gratifica molto anche perché la scuola ha da tempo messo in atto questo approccio multidisciplinare integrato coniugando discipline diverse e metodiche di ricerca da diversi settori per rispondere a domande fondamentali su quello che è il comportamento umano su quelle che sono i processi decisionali su quelle che sono le dinamiche sociali. I massimi esperti di psicofisiologia, neuroscienze, psichiatria, psicologia clinica e neuropsichiatria infantile provenienti da 37 paesi del mondo si confronteranno sulle più recenti tecniche applicate all'analisi dell'attività celebrale e alla diagnosi delle disfunzioni del cervello. La psicofisiologia infatti è un ramo della psicologia che studia le relazioni tra i fenomeni psichici e quelli fisiologici dell'organismo, quindi il collegamento tra l'attività mentale e il comportamento e le reazioni fisiche e psichiche.